Andrea Olivi è fondatore e direttore della casa editrice Edizioni della Meridiana. Andrea, quando è nata Edizioni della Meridiana e perché si chiama così? Edizioni della Meridiana è nata nel 1998. Dopo una mia lunga esperienza nel campo editoriale dove ho fondato una sigla delle agenzie editoriali poi ho sentito come l'esigenza di costruire una casa editrice nuova anche perché quando ci troviamo a costruire una casa editrice l'esigenza primaria è poter dire qualcosa a poter portare avanti un progetto culturale preciso da dove poi scaturisce la linea editoriale. È nata nel 1998 e pian piano sta crescendo diciamo sotto, come dire, con l'esigenza di poter spaziare in quei campi dove la nostra curiosità ci porta. Voi avete una produzione molto varia e anche molto connotante del vostro marchio. Voi producete poesia, producete narrativa, producete dei testi di fotografia, e proprio dire testi di fotografia, testi d'arte diciamo e alcuni di questi sono riferiti anche al cinema che comunque tra le espressioni visive nei nostri tempi è senza dubbio una delle più alte e significative. Mi descriveresti un po' le tue collane dicendomi qual è lo spirito che sostiene ciascuna? Allora, le collane sono, diciamo, sorrette da questo spirito che ti dicevo prima che è un po' uno spirito di curiosità e soprattutto sono sorrette dalle passioni che mi hanno connotato durante la vita. Io ho avuto molti maestri e mi hanno lasciato il segno, due o tre di loro mi hanno lasciato un segno indelebile fra cui Tarkovsky e Luzzi. Io sono nato in un'intersezione fra la letteratura e la fotografia e quindi anche il cinema. Tarkovsky per me ha voluto dire moltissimo. ho costituito con il figlio di Andrei Tarkovsky, Andrei Andreevich Tarkovsky l'Istituto Internazionale Andrei Tarkovsky con sede a Firenze e proprio per portare avanti quello che Tarkovsky ci ha sempre insegnato per portare avanti questa strada alla bellezza di cui è stato il nostro maestro quasi un padre. Quindi il cinema vuol dire per me portare avanti questa lezione che è stata di Andrei Tarkovsky e una lezione che è stata una lezione di immagine e di letteratura una lezione di estetica ma soprattutto una lezione esistenziale. Un'altra figura importante per questo è stato Luzzi è tuttora Luzzi, un'amicizia più che ventennale abbiamo fatto tra l'altro l'ultimo suo testo teatrale Il fiore del dolore e una visione del mondo dove l'uomo è al centro con la sua domanda, col suo grido, col suo bisogno di significato ecco anche le altre collane sono nate per questo la collana tutt'altra è la collana di letteratura dove abbiamo poesia, narrativa ultimamente sono usciti volumi come parole di Vittorio Cielo e stanno uscendo i saggi di Bigongiari altro grande maestro della mia vita ecco una collana che è nata per ascoltare il grido dell'uomo per ascoltare il suo bisogno di significato per ascoltare quello che lui che quest'uomo ha voluto dire, ha voluto capire nella vita tra l'altro l'edizione della Meridiana diciamo dovendo scegliere una categoria come case editrice appartiene al mondo delle piccole case editrici e questo è un mondo molto variegato, molto ricco ma anche molto difficile tu accetti innanzitutto la definizione di piccolo editore e ti ci ritrovi in questa? piccolo editore, assolutamente piccolo editore e se tu dovessi definire quali sono le difficoltà principali che deve affrontare un piccolo editore a monte delle scelte che mi sembrano per te chiarissime sulle linee di definizione della linea editoriale proprio per l'attuazione poi dell'attività diciamo le linee del piccolo editore che poi sono i suoi punti di difficoltà è chiaro, il punto di difficoltà maggiore è la commercializzazione dei propri prodotti però ci tengo a rimanere in questo alveo del piccolo editore perché quel che è importante per un piccolo editore è il proprio progetto culturale un progetto culturale che vuol dire un progetto di umanità un progetto di sperimentazione un progetto appunto esistenziale come dicevo prima che un grosso editore non si può permettere non possiamo essere presi per il collo dalle problematiche assolutamente commerciali un piccolo editore non può essere diretto da un direttore commerciale deve essere diretto da chi ha in mente lo sviluppo, l'origine e lo sviluppo del proprio prodotto e uno dei rapporti fondamentali del piccolo editore anche quello poi con la sua distribuzione spesso è il rapporto diretto con il suo interlocutore ultimo che è ancora prima del lettore il libraio voi come avete organizzato e risolto questi problemi di allocazione della meridiana? noi abbiamo risolto parzialmente risolto perché è ancora una questione penso per tutti i piccoli editore parzialmente o ancora non risolta con una distribuzione nazionale noi siamo distribuiti dalla Dioniana Libri che comunque diciamo gioca gioca cioè fa una sorta di battaglia dove più cruenta e dove un po' meno cruenta per cercare di conquistare il centimetro quadrato in libreria però sappiamo che non possiamo avvalerci esclusivamente della libreria per farci conoscere per promuovere i propri prodotti ma dobbiamo anche cercare nuove strade e a questo punto la fantasia è al potere in un piccolo editore la fantasia è totalmente al potere e voi giusto per essere indiscreta quali altre vie avete trovato oltre alla libreria? abbiamo trovato stiamo tentando diciamo la via internet insieme ad altri piccoli editori essenzialmente con la catena con la catena Libertas poi stiamo cercando anche di promuovere i nostri prodotti nelle fiere promuovere i nostri prodotti con presentazioni perché in fondo il nostro autore ha bisogno di essere portato io insegno anche in una scuola in un corso di editoria e una cosa che dico sempre è che quando si pubblica un volume non dobbiamo fermarci al lato tecnico della stampa il libro non è pubblicato quando è stampato il libro nasce quando è stampato poi occorre farlo crescere questo libro per far crescere il libro occorre presentarlo occorre portarlo alla gente per il grande editore questo è più semplice perché magari ha dalla sua parte i grossi canali mediatici ha dalla sua parte la promozione ha dalla sua parte un mondo che non può essere ancora o non potrà mai essere il nostro noi ce lo dobbiamo creare per questo anche la fantasia al potere perché noi dobbiamo creare quegli strumenti che possono arrivare al pubblico allora il libro è pubblicato e noi pubblichiamo cose che i grandi forse non pubblicherebbero mai e continueremo a pubblicare quello che i grossi non pubblicherebbero mai e continueremo a pubblicare quello che corrisponde a noi che risponde al nostro essere editori l'importante è far sì che il nostro prodotto possa essere quel testo che l'autore scrive e quel libro che l'editore propone io ringrazio Andrea Olivi che delle edizioni della Meridiana che però non mi ha detto perché si chiama così l'edizione della Meridiana si rifà alla Meridiana è una cosa un po' strana a me mi ha sempre affascinato l'elemento della Meridiana come una sorta di congiunzione fra spazio e tempo perfetto grazie mille prego grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille